Torniamo a Pescara dove torna l'incubo dei roghi nella pineta danunziana. Non si esclude il dolo infatti nell'incendio che ha interessato la pineta a Pescara. I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato nei comparti 3 e 4 della riserva pineta danunziana nella zona sud della città. All'origine del rogo che ha interessato un'area di circa 7-800 metri quadri potrebbero esserci i piumini dei pioppi che per cause in corso di accertamento avrebbero preso fuoco sul posto. Sono subito arrivati i vigili del fuoco con due squadre e sei mesi intervenute anche le forze dell'ordine. Il rogo è stato domato e sono in corso le operazioni di bonifica. Ha monitorato costantemente la situazione dell'assessore comunale al parchi e al verde pubblico. La pineta danunziana considerata il polmone verde di Pescara nell'estate del 2021 fu devastata da un maxi incendio. Intanto le indagini sono comunque in corso.